E' di oggi l'ok alla legge di stabilità, è soddisfatto Ministro? Beh, è una legge che evita l'inalzamento dell'aliquota e dell'IVA, quindi un obiettivo che ci eravamo dati è stato raggiunto, quello di evitare aumenti di tasse, soprattutto di una pressione fiscale che rischia di compromettere la domanda interna e quindi la ripresa. Entra nel vivo la discussione per quel che riguarda il Rosatellum 2, si va in commissione al Senato, c'è però chi chiede come la sinistra e il Movimento 5 Stelle fa appello a grasso perché dica alla fiducia. La fiducia non è una prerogativa del Presidente del Senato decidere se metterla o meno, è il Governo che lo decide, io mi auguro che si possa evitare, se ci sarà un'opposizione che entrerà nel merito e non avrà un atteggiamento ostruzionistico credo che questo obiettivo può essere evitato, altrimenti credo che bisogna raccogliere l'appello del Capo dello Stato a non andare alle urne con la legge elettorale che è uscita dalla consulta. Nel 2018 comunque si andrà al voto, lei per le politiche sarà candidato per la Liguria o da qualche altra parte? Mai presto per parlare di candidature, credo che prima sia importante adesso definire la nuova legge elettorale e lavorare fino all'ultimo giorno per cercare di realizzare la maggior parte degli obiettivi che ci siamo posti. Restiamo in Liguria dove il Presidente Totti ha detto che dopo il referendum per l'autonomia del Lombardia e del Veneto toccherà alla Liguria, che ne pensa? Se posso dare un consiglio a Totti gli consiglierei di rendersi conto che la Liguria non è la Lombardia, in questo e in altri campi. Restiamo invece su temi nazionali, parliamo di Ius Soli. Io penso che sia un obiettivo e che dobbiamo portare a casa perché penso che sia davvero una legge di civiltà, una legge che aiuta un processo di integrazione, una legge che non fa pagare ideologie e preclusioni a dei bambini, a dei giovani che ormai sono italiani a tutti gli effetti. Ministro, vi faccio anche una domanda sul PD che pochi giorni fa ha compiuto 10 anni. Il suo stato di salute a livello locale, secondo lei a livello nazionale, quanto è preoccupato per il suo futuro? Visto il quadro europeo è giusto essere preoccupati per tutte le forze progressiste. Il PD è stato una grande intuizione, senza il PD non saremmo arrivati probabilmente fino a qui, non avremmo saputo contrastare la destra e il populismo. Ora però credo che abbia bisogno di una cura ricostituente e mi auguro che da qui alle elezioni saremo in grado di metterla in azione.